Il nostro servizio sanitario nazionale è apprezzato in tutto il mondo anche per la qualità delle prestazioni che riesce a derogare e la qualità come tutti sappiamo è legata alla formazione. La decisione del governo di aumentare le borse post laurea a 12.000 unità ci riempie di grande gioia, probabilmente riusciamo in questa maniera a risolvere in maniera definitiva l'imbuto formativo e a consentire a tutti i neolaureati in medicina di avere una chance per potersi formare subito dopo la laurea senza ricorrere a dover espatriare, andare all'estero a trovare soluzioni veramente talvolta fantasiose.